Una gara di orientiring, ovvero di orientamento per udire lo sport alla riscoperta degli angoli più suggestivi della città di Sulmona e con l'occasione di gustare bevande prodotte da aziende locali. Si tratta della manifestazione Orientarsi con Gusto che, organizzata per domenica prossima 7 ottobre, servirà a raccogliere fondi a favore della Fondazione Isal impegnata nella ricerca sul dolore cronico. La dottoressa Chiara Moretti, ricercatrice della Fondazione Isal e coordinatrice dell'evento. Come tutte le azioni che vengono svolte durante l'anno è importante riuscire a aumentare quella che è la ricerca legata al dolore cronico. La ricerca è una delle prime azioni portate avanti dalla Fondazione Isal, dall'oltre alla formazione dei medici e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni su un tema molto importante che tocca una ampissima fetta della popolazione italiana. Quasi il 26% delle persone è affetto da patologie dolorose croniche. Per cui c'è necessità di fare ricerca, c'è necessità di ampliare le conoscenze e questi eventi sono da noi molto graditi proprio perché oltre a creare divertimento, a portare una rivalutazione anche delle città e delle bellezze, hanno anche uno scopo benefico e di sostegno e di supporto a chi oggi soffre. All'evento aderiscono Slow Food, il Panatron, il Lion, l'Unucci e l'Ovidio Running, il professor Pinometa della SD Sport Orienteering e della Fiso Abruzzo, curerà il percorso che verrà allestito lungo le strade del centro cittadino alla riscoperta di piazzette vicoli dove i partecipanti dovranno cercare i checkpoint rappresentati da lanterne indicati sulla cartina che verrà consegnata al momento della partenza. L'Orienteering si basa soprattutto sulla lettura del territorio, sul confronto che c'è fra la carta e ciò che noi vediamo nell'ambiente che ci circonda. Tutto questo favorisce la scelta, le decisioni dell'individuo che dovrà scegliere, a differenza di una corsa campestre dove il percorso è obbligato, qui ognuno potrà scegliere il suo percorso, avrà di fronte più possibilità e la scelta migliore chiaramente favorirà i più abili nell'orientarsi. Abbiamo predisposto un percorso in modo che la gente possa frequentare gli angoli più caratteristici della città. Più che una corsa sarà una passeggiata orientistica perché sarà comunque abbinata a un evento di carattere gastronomico. Nel percorso saranno dislocati punti di ristoro per offrire ai partecipanti birre artigianali di produzione locale e succhi di frutta biologici per i più piccoli. La particolare iniziativa, spiegato al Fieri di Girolamo della condotta peligna di Slow Food e del Lion, prende spunto da un evento svoltosi a Milano con identiche caratteristiche. Era una maratona con dei punti di ristoro in cui c'erano delle birre. Abbiamo pensato di portarla qui a Sulmona, ovviamente rimodellandola e riadattandola a quella che è la dimensione, a quella che è la realtà sulmonese e abbiamo pensato di devolvere in beneficenza tutti quanti i ricavati. Abbiamo individuato ISAL, che è un'associazione che appunto si occupa di ricerca sulla terapia del dolore in quanto i dati sono allarmanti, 15 milioni di italiani sono affetti da dolore cronico, vuol dire una persona su quattro. Abbiamo pensato quindi di realizzare questo evento per dare, non solo per raccogliere fondi per questa associazione ma anche per dare ai cittadini di Sulmona un'opportunità per girare per Sulmona, per riscoprirne gli scorci sopiti o dimenticati e per dare appunto la possibilità anche di scoprire delle birre artigianali, dei birrefici locali in quanto sono previsti dei punti di ristoro lungo il percorso che soddisferanno i palati dei più grandi con le birre e quei dei più piccoli con i succhi di frutta biologici. Questa iniziativa servirà anche per far conoscere e sviluppare ancora di più le attività che svolgete proprio in questo territorio? Certo, non è la prima volta che affrontiamo gli eventi in centro storico sia dal punto di vista scolastico sia dal punto di vista federale. Sono diversi anni che Sulmona ha ospitato eventi anche di carattere nazionale per cui ci auguriamo che tutte le famiglie possano aderire all'invito dell'associazione a cui noi abbiamo dato il nostro disinteressato appoggio affinché questo evento abbia successo. Saranno due le categorie, una individuale e l'altra per gruppi riservate alle famiglie. Il percorso individuale premierà chi riuscirà a trovare tutti i checkpoint nel minor tempo possibile. Alle 17 ci sarà di trovo in piazza Garibaldi nei pressi del Fontanone per le iscrizioni. Alle 17.30 partirà il percorso individuale e alle 17.35 quello per le famiglie. La quota di partecipazione è di 5 euro, mentre per le famiglie con bambini da 3 o 4 unità sarà di 10 euro. Oltre a questa iniziativa ci saranno altri eventi, è vero? In questo momento c'è la settimana, anzi le settimane legate a 100 città contro il dolore che è una giornata di sensibilizzazione e raccolta fondi sul dolore cronico. Quest'anno coinvolge l'evento più di 150 città italiane, strutture ospedaliere e farmacie. Abbiamo ricevuto per il terzo anno consecutivo la medaglia del Presidente della Repubblica che ci fa molto piacere, ma è soprattutto una giornata importante perché di nuovo medici e volontari saranno in piazza per dare informazioni sul dolore cronico e soprattutto su quelle che sono le modalità di trattamento e di presa in carico terapeutica del dolore. Grazie. Grazie.